Per arginare il fenomeno della movida selvaggia, una campagna di sensibilizzazione che coinvolge 24 città. La presentazione a Santa Maria Capoavetere. Sentiamo Pasquale Piscitelli. Bevi Responsabilmente, una campagna di sensibilizzazione che coinvolge 24 città dal nord al sud del paese. Presentazione regionale nell'aulario di Santa Maria Capoavetere dell'Università Bambitelli. Il senso di questo progetto è formare non soltanto i fruitori della catena finale di vendita, ma coloro che somministrano le bevande alcoliche. E' questo che rende questo progetto un unicum nel suo genere. In una guida il vademecum per un consumo consapevole, grazie al protocollo d'intesa tra Confcommercio, Fipe, Università e Associazione Nazionale Magistrati. I punti fondamentali del progetto. Confronto con le amministrazioni per regolamentare meglio i flussi dei pubblici esercizi e soprattutto la possibilità di condividere con le forze dell'ordine un maggior presidio del territorio per il rispetto delle regole. Aumenta il fenomeno della movida selvaggia un po' ovunque. Il fenomeno è sicuramente in crescita nei nostri territori soprattutto. E' necessario quindi un presidio sul territorio discreto ma continuo. Lo abbiamo iniziato già nell'ultimo fine settimana per dare possibilità ai giovani di vivere momenti di divertimento, in sicurezza e in legalità.